L'importante è che si trova una tipo da poter scopare, adesso il gentil sesso Io abbasserei un po' la crescita e direi guarda Non mi basta segarme e quindi ne voglio trovare una Ma non è non ti basta segarti, tanto se uno si segherà sempre Oh ma c'è, a capodanno all'amico mio gli ho detto Quando è l'ultima volta che ti sei visto un porno? E una vita fa Ma come una vita fa? E che fa scusa nella vita? E no, adesso convive con la fidanzata però nel senso Beh cosa vuol dire? Anch'io convivevo con la fidanzata e quindi? Madonna, le persone non sanno come si vive Poi ci credo che tradiscono, sono frustrate E quando è l'ultima volta che ti sei visto un porno? Ieri? Io sono sincero Ma se me lo chiedevi da fidanzato ti avrei detto comunque ieri? Io forse stamattina, non me lo ricordo Nel senso, ce ne insegna anche The Wolf of Wall Street Bisogna masturbarsi e pippare di coca almeno una volta al giorno Non pippo di coca Ma te masturbi almeno due No, no, quello no, quello non avrebbe senso Bisogna semplicemente caricare il testosterone Due sarebbe davvero essere gridi No, 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 no Io mi sa che sono arrivato a cinque una volta No, ma così non ha senso Così la tua vita fa più schifo di chi non lo fa proprio O c'è un alto livello di testosterone? Non credo Perché? Perché basta una, mi ha spiegato il medico Lo stesso medico a cui sento quando sono ubriaco O faccio cose Non credo sia un buon medico allora Come no? L'ultimo anno di specializzazione Già sta a lavorare in ospedale Ti voglio dire Quanta roba Me lo dice sempre L'alcol o lo sudi o lo sbotti o lo pisci In ogni caso te devi uscire da qualche parte Sì Yugi è tutti ragazzi Ben ritrovati sul canale Oggi nuovo episodio del podcast Come tutti i mercoledì Solamente che Podcast Oggi ci andiamo un po' leggeri Perché la Konami non ha dato info Non sappiamo niente E quindi andremo un po' a braccio Nel senso All'inizio parleremo come sempre Dei nuovi supporti che sono stati annunciati Ovviamente sia Michele che Francesco Hanno i loro supporti A me non hanno dato niente Grazie Poi ovviamente faremo la solita marchetta Magic Corner Che col codice sconto 2022 cappello Vi permette Di avere il 10% di sconto Sul prodotto sigillato E carte singole Che non sono soggette ad altra offerta E poi Parleremo di Tutta la nostra esperienza Nell'ambito di Yu-Gi-Oh Degli ultimi Tipo 20 anni Almeno la mia Io ho un botto Che gioco a Yu-Gi-Oh E dei nostri mazzi E delle nostre meccaniche preferite Un po' te che cambia hobby Ho provato Troppo Eh sì Non so se si può dire su YouTube Comunque hai notato La professionalità di cappe Che mentre ha fatto la marchetta Tipo Ha aumentato tantissimo La velocità Tipo I fogli illustrativi Dei farmaci Ormai È diventato Un marchettaro Professionista Sì sì ma Infatti lo vanno ancora sbattuto fuori Perché il lavoro mio Lo so fare molto bene Eccolo Un bell'autopompino Che non fa mai male Ancora no Però Ci siamo vicini Mi devo solo levare Le ultime due costere Tipo d'annunzio Sì Oppure non lo voglio fare Anche se ci arriva comunque Perché il cazzo è enorme Sapete che si pensa Sia un falso storico Che ha messo In giro lui stesso Sì 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 Lo sapevo C'è Molto divertente Gelio Come ti viene in mente Dei di una stronzata del genere Proprio metterla in giro Tu stesso Guarda Nel senso Ha messo in giro anche il fatto Che si inchiampettava le papere Lui mi frega un cazzo Lui fa quello che vuole Cazzo Lui è d'annunzio Lui può Lui può prendere Lui può prendere l'aeroplano Per andare sopra L'alzarsi All'orene E sparare i volantini Perché sì Mi devo due costere E mi faccio un bel pompino Sì sono d'annunzio Parliamo di cose Che repellono Il gentil sesso Parliamo di Yu-Gi-Oh Via Prima di tutto però Vi ricordo che se avete Carte singole O anche del prodotto sigillato Di cui volete Liberarvi Ricordiamo Magic Yu-Gi-Oh Pokémon Pokémon Calciatori panini Laming cards di Dragon Ball Fogli illustrativi Delle medicine scadute Tutto va bene Digimon Ecco Trovate il link Del mio Instagram Questo è in descrizione Contattatemi E mandatemi le foto E se c'è qualcosa di interessante Se ne può parlare Detto questo L'ultimo video È un video acquisto Di una collezione Da 1500 euro Quindi ce li butta i soldi Sì Se gli iscrivete le compre Se avete roba interessante Se gli iscrivete le compre Esatto Guardate Mi hanno proposto Proprio stamattina Un bel JD Ultimate Il problema è che c'ha Alcuni difetti sul retro Però Se ne può parlare Io ho offerto Un centinaio d'euro Perché è pieno di pressioni È tipo lightplayed Secondo me ci può stare E ti senti di quanto Quanto costano Cioè quanto Pesano su una carta Su una carta del genere Tanto Nel senso Tantissimo Cioè tipo io c'ho Il drago imperatore del caos I Ultimate E c'è una Piccola pressione In mezzo Che non si vede Se è slivata addirittura Se è piccola Alla fine Sticata E quanto Quanto la listeresti Cioè perché io non mi renderei conto Quanto lista una carta del genere Io tipo Se non ha difetti La listo NM E poi sotto ci scrivo A little pressure E nel caso Di chiedere le foto No non è NM Assolutamente Cioè la listi Perché sei uno strozzo No però Nel senso Ho scritto che c'ha la pressione Non ha altri difetti E voi Chiedete le foto E ve le mando Se vi sta bene Ok altrimenti Sti cazzi Andate da quello Che ve la mette 50 euro di più Ovviamente La metto un po' meno Rispetto a quella NM Però se non c'ha altri difetti Cioè a me romperebbe anche Listarla X Perché X implica Che ha dei difetti Che la carta non ha Poi ovvio C'ho il Kaius Con una pressione Talmente fatta forte Che ha bucato la carta Ma quella è un'altra storia Che ho già raccontato Svariate volte Che per me La pressione è excellent Ma dipende Perché Anche se è piccola Cioè chi la valuta di più E chi la valuta di meno Cioè Sono sicuro Che non è NM Però capito Cioè Se ti faccio delle foto De sto drago Imperatore del caos È perfetta E poi vedi Che in mezzo All'effetto Piccolissimo C'ha una micropressione No ma Vi dico Cioè chi ha le pressioni Cioè delle pressioni Non frega niente Quindi vabbè La comprano La comprano comunque E chi invece Con una pressione Dicono no Per me la carta Non è neanche X È direttamente LP Tipo io che sono stato Tipo Due settimane dietro Con Card Market Per avereci il rimborso Per quelle infame Ma quella era terribile Come carta Non era solo la pressione C'era pure i punti bianchi Ma che carta hai comprato? Ho preso un Artemis Prima che la ristampassero A 18 euro Mint Listata come Mint Mi è arrivata con tre pressioni E dei punti bianchi Cioè No no Allora Schizzato di testa A parte che Chi carica Mint Su Card Market Non ha mai venduto Una carta in vita sua E non sa che Mint significa solo Una carta gradata E deve essere gradata Eh ma che già sai Che se compri una carta Mint Già sai che 100-100 Poi chiede Una parte del rimborso Quindi No io ci ho rinunciato Cioè Ho comprato da uno Che c'era scritto Mint Perfect Card E tipo Io l'ho comprata Ma la carta Mi è arrivata sfondata Poi Nel senso Ho guardato il suo store Era pieno di carte Mint Tutte Mint erano Basta Io a un certo punto Ho dato de matto Dopo La terza volta Che non mi arrivava perfetta La carta E ho rimandato indietro tutto Tutto Ho litigato Ho fatto chiud'account Non me ne fregava niente Se sbagli Questo è Questo è quello che te meriti Figlio di puttana Oh ma il JD Che lingua è? Italiano Mi sembra E il di italiano? Eh io ce n'ho uno Col backaxe Santa roba Ed l'ho caricata A 450 Perché c'ha qualche puntino bianco Se no sta a 500 L'ho preso che Stava a 300 E l'ho pagato 250 Attualmente ce n'è uno a 309 Dal portogallo In italiano? Sì NM? NM Eh vabbè Quello portoghese Se ne può andare pure a fanculo Non me lo ricordo Mi salva tanto Ma perché è salito? Quando l'abbiamo visto l'ultima volta Stava a 70 euro Cosa? Io l'ho pagato tipo 15 Sì ma Tu non lo volevi prendere? Io ero lì a dite No bravo Dammeretta che sale No no Non lo so Non mi piace Prendilo Ok l'ho preso È salito Perché è una carta iconica È una carta ultimate È una carta in prima edizione Quindi nel senso Sale per forza E poi c'è stata una pandemia di mezzo Diciamo Grande Shogun Shen O Shian Samurai Legendario Il sincro Il sincro Il sincro In prima inglese Nier 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 Min Con la pressione No 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 La pressione La pressione ce l'ha Drago Imperatore del Chaos Ultimate in italiano Il primo Nier inglese Sta 34 dalla Germania Ok in italiano invece? Italia Lingua inglese Condizione minima No no Italia lingua italiana No è inglese quella di fra Eh no Ma il mio è in italiano Ah la tua è in italiano In italiano sta 49 99 Allora è in inglese sta 55 Attenzione Tu devi prendere quel portoghese No quel tedesco di merda Che l'ha messa a 35 euro Sì Ah dai ci posso stare A me serve Ultima stronzata Un altro Shian Secret Sempre il sincro Tocca che lo compri sul market Che palle Era quello che proprio Non volevo fare Cazzo Non ce l'ho Mi dispiace Ah Mitch Sentito gli audio Elf se vuoi è tuo Ci penso Almeno Per le decklist Ce l'abbiamo Quindi ragazzi A breve Anche decklist tribli A febbraio L'Ecklist Però Una decklist Che vale la pena di vedere Per il semplice fatto Che sarà come al solito Diversa da quelle che trovate in giro E vi ci porto una combo Di Dio Che è anti dark ruler E anti heavenly Allo stesso turno Poi ovviamente Quando uscirà Il set A giugno Aggiornamento Con il supportino nuovo Che andremo a vedere dopo Ovviamente Sì 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 Detto questo Io andrei subito A vedere Quello che è stato annunciato E poi Continuiamo a parlare Di cose a caso Che non hanno Assolutamente senso O inerenza col video Ci casiamo Ci casiamo Sì Allora Io partirei con loro Le scarpe più brutte Che esistono Sulla faccia della terra Ma guarda Io sto sincero A me non dispiace Ricordo un sacco Le globe Sì sì no Drippano un sacco Perché ci hanno Yu-Gi-Oh Qua davanti Dici vabbè Di mostro dove c'è Il cazzo grosso Ma Viola e nere Sono molto più belle Quelle bianche Questo nero È proprio da Da drogato Al parchetto Capito Non Esatto Stanno proprio di globe Da drogato Che fa l'artistico Ve prego No Quelle bianche Sono molto più belle C'era anche un modello bianco Dopo le andremo a vedere Oh ed è Out of stock Costavano 100 dollari Diciamo che se ci fossero state Del numero giusto Quasi quasi No ma io le avrei prese Ma anche Cioè Il semplice fatto Che è un'edizione limitata Una collaborazione 100 dollari Che di base È il prezzo Normale Delle adidas Tanto le togli dai 70 Ai 120 Quindi per me Era un affare di dio Cioè anche che te li tieni lì Sigillate Sigillate No ma il problema è che So brutte So proprio brutte Ma io non sono d'accordo A me mi dispiace per niente Boh a me sto viola qua E con un font Preso da No il font Con delle grafiche Che sembrano fatte con paint Con paint proprio Sì sì guarda Perché sei international Non lo so L'unica cosa che vale Di questo Di queste bellissime scarpe Che sono Disgustose È questo È questo mago nero Con la filigrana Con la filigrana di adidas Che poi ti sei a insultare Eh le speed duel C'è la filigrana Con scritto speed duel in rilievo Ci mettono adidas Allora lo voglio Infatti il prodotto è sold out Probabilmente Anno prossimo Il mago nero Costa p delle scarpe Esatto Altro motivo per il quale andavano e comprate eh sì cazzo però non l'hanno sponsorizzata per niente fa la pubblicità in televisione adidas collab yugio che bello così se già andate sold out in un giorno così andavano non esistevano neanche proprio esatto già c'ho avuto una brutta esperienza con Panini che l'unica volta che hanno sponsorizzato una variant per bene cioè proprio hanno fatto tanta pubblicità è cresciato il sito due ore prima che fosse in vendita la variant di cosa? era se non sbaglio quella di Jujutsu Kaisen in collaborazione con la marca dei vestiti che tra l'altro ce l'ho qua sono riuscito a prenderla però tutti quanti si sono super e quanto è la variante? il prezzo di vendita ah Dolce Gabbana Dolce Gabbana infatti hanno messo in vendita ho visto sul sito di Dolce Gabbana proprio gli stessi outfit fatti per Jujutsu Kaisen e adesso quanto vale questa variante? è da un po' che non cerco però penso che sta sulla quarantina vabbè ci hai fatto il 100% probabilmente sì ma non è quelle le cose che ti fa fai soldi cioè io ho la prima la variant di Luca di Jujutsu Kaisen e quella è salita tanto lì ci ho fatto il 10.000% perché quanto sta adesso? l'ho pagata 4,90 euro o 5,90 non mi ricordo Luca adesso sta a 120, 130 porca troia quella è tanta roba comunque le scarpe che dicevate prima erano queste queste cose terribili queste sono molto più fighe ma dai hanno ritagliato con con l'azzo ritaglia il mago nero dalla carta e l'hanno schiaffato sulle scarpe molto più fighe semplicemente perché sono bianche secondo me invece proprio orrende no sono fatte veramente male tanto l'abbiamo già detto la Konami non sa fare il merchandising guarda quanto sono molto più drippolose proprio proprio goccioline proibite sgocciolano davvero queste ma le ciabatte ne vogliamo parlare io mi vergognerei indossarle ma ci orrende oh sto nero ha rotto il cazzo che palle ma perché fatele blu fatele gialle fatele ma secondo me non so manco morbide aspetta eh no ragazzi ci stanno pure le ciabatte con il drago bianco ovviamente un minimo più carine no comunque giusto per chiudere il discorso eh ho trovato eh la marca era Uniqlo della collaborazione io ho trovato anche la collaborazione con Dolce Gabbana l'hanno fatto anche con quella però la variant era per l'Uniqlo ah ok più dopidius però ah vabbè ok tranquillo detto questo io adesso passerei visto che tanto delle scarpe abbiamo già parlato svariate volte abbiamo già detto che fanno schifo ai nuovi eh annunci che ci sono stati questa settimana il primo la magia continua su scippa dai Francesco ci dica cosa fa allora già l'ho letta ma proprio appena è uscito appena hanno droppato lo spoiler già la sapevo a memoria e allora su ship non è forte come ben sappiamo tutti è più forte però appena uscirà sta carta porteremo un'altra lista più incazzata c'è chi non lo gioca puro ma sicuramente va giocato puro con un sacco di entrap e un sacco di carte going second che rompono il cazzo e questa carta aiuta tantissimo col perché prima giocavo due desire volendo se potrebbe sostituir con due di queste così non te banni nemmeno le carte perché questa ti fa cercare il pezzo che ti serve perché se non parti con i nomi se poi di che passi sperando dare in mano almeno tre entrap invece questa te forza vede i nomi perché se riveli il giallone che come ricordiamo si gioca in praticamente io lo gioco in sei nove undici copie con tutti i sercini quindi avendoci quello più questa parti di subito Xyz se poi parti con Dark Ruler e sta roba qui fai la nave che picchia diretto fai Zeus sopra e vabbè quello che fa Suship Zeus spam carino si ma non è detto che tu sei il tipo da masso puro cos'è quello Zeus infatti infatti gioca io gioco praticamente cioè Suship gioca praticamente un botto dei carte archetipo e questa davvero aiuta tantissimo perché tu riveli il giallone all'avversario l'avversario e riveli all'avversario sempre un mostro dall'extra che c'è scritto il nome di sto giallone quindi qualsiasi Xyz ti serva in quel momento l'avversario la vede l'Xyz e dichiara non ho capito perché l'hanno specificato l'avversario dichiara il nome dell'altro mostro utilizzato quindi boh che ne so uno dei per fai gli Xyz e te lo aggiungi in mano ah e ogni volta che fai questo piazzi un segnalino su questa carta e se l'avversario distrugge questa carta anzi se il possessore di questa carta che ha viene distrutta quindi te la puoi tifonare tu o te la distruggi l'avversario l'avversario perde 500 life points per ogni segnalino che stava su quella carta quindi questo è i turni voli esatto sì ai turni voli mi sembra molto situazionale da dire giocherei cowboy ai turni con Suship ovviamente cioè perché vuol dire che devi pescare questa devi fattivare l'effetto che ci piazza un segnalino e poi te la devi autodistrugge no no ovvio cowboy più forte è un po' difficile però capito anche il fatto che se ce l'hai sul terreno hai almeno uno o due segnalini e ce fai sopra cioè te la spacchi banalmente con Zeus no Zeus non spacca Zeus manda al cimitero attento eh ah ok no allora non parte if this card is destroyed ok no 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 allora no allora no 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 però tu c'hai la possibilità di utilizzare Exiton te la spacchi con questo Exiton distrugge sì poi non ho capito ma ah no ok once per turn è once per turn è once per turn ovviamente ci sta non male ti dico ci sta ci sta ci sta sì 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 sono contento bene adesso passiamo da non giocare in più di due copie tanto te la puoi serciare te la puoi serciare con la nave che sercia magia e trappola però non è cioè non te la sercerai mai cioè nel senso ti serci altro tipo la trappola o la terreno perché la terreno sicuramente voi non l'avete letto perché siete dei cani ma assolutamente no l'Xis che cerca magia e trappola dice che se c'è una terreno scoperta o da te o dall'avversario e non importa che terreno sia i mostri su ship sono indistruttibili per effetti di carte figo è molto figo infatti se giocando su ship necrovalle è è importante è gg contro contro tutto il meta contro tutto il meta se parte banalmente che poi parte cioè è come quando si giocava mina cioè tu non perdi contro un mazzo meme tu perdi contro mina tu perdi contro shifter necrovalle e mi sembra giusto così sì sì no no ma io abuser vero di queste carte brutte comunque adesso non so se avete notato ma se cash tira si sta facendo sentire no su tutti i rank 7 per niente oddio per fortuna ce l'ho sta carta ma guarda guardate anche cosacco eh per fortuna ho recuperato un sacco di rank 7 cosacco drago da pacchetto vabbè da pacchetto nessuno compra solo te che sei un matto eh ma io l'ho comprati tipo a 4 euro vabbè lasciate stare io ho alzato i prezzi prezzi incredibili 15 euro ex ma guardate il primo nm in prima sta a 12 e poi va sui 20 eh e cash tira non è ancora uscito e io questi l'ho pagati 4 euro poi ovvio se siete poveri vi comprate questo e siete tutti contenti che comunque oh stava a 2 centesimi ma anche da mago va bene andiamo su mago vediamo a quanto sta 3 centesimi sì questo questo va bene però stava a 2 centesimi ed è salito quasi a 50 diciamo che un minimo sono salite tutte le versioni poi ovvio sì sì quella da mp sempre secret mi sembra stessa ancora poco no assolutamente è salita ieri stava a 4 euro dai ma tesco 95 c'ha un buon good sono sicuro è un good con qualche puntino bianco sul red lo scommetti sponsor sponsor a tesco 95 mio padre incredibile mio padre adesso è da vedere cosa succede quando esce perché potrebbe salire tutto come potrebbe essere tutto un flop è tutto un flop ma magari me lo auguro tantissimo io spero che no e poi vorrei vedere prima di passare al supporto al supporto tribri che poi ne ho visti due non so se l'altro è uscito qualche giorno fa abbiamo lei questo ma non è un supporto tribri no questo non è un supporto tribri però usa mini doshi è la nuova waifu per tutti gli amanti di furri come kit adesso la farò un po' eccessivo è veramente inguardabile sta carta ma vabbè da beast warrior cosa fa una volta per catena quando viene attivato l'effetto di un mostro puoi mettere un counter orecchie da coniglietta e sono le carte per pasqua ragazzi ah bello le carte con bunny ear non possono essere distrutte in battaglia e questa per chain addirittura invece per turno cosa fa quick target un mostro con il counter e bunny sia quel mostro che questa carta oh però in realtà è forte è carina la puoi mettere anche sui sui mostri nemici eh si sai che carina sta carta nell'anime che tipo metti bunny arabo a barone barone con le orecchie da coniglia guarda se fosse stata a livello 2 questa sprite infatti l'hanno fatta a livello 1 guarda che la konami non sta sbagliando la konami per una volta sta facendo cose giuste e poi abbiamo il miglior supporto parte ci hanno messo degli esseri pensanti alla konami per fortuna allora abbiamo il miglior supporto per virtual world carta del merda avanti mamma vi è inguardabile sta carta sia come effetto che come artwork no l'artwork ce sta l'effetto l'artwork mi è casa full questa mi sa che secret è figa però potevano metterci tipo un simile calamities no ma guarda questo probabilmente sarà quella secret che dirai porca che a me no no non penso che si userà assolutamente però diciamo che questo set racchiude anche delle cose belline forte quella quella lì destra o sinistra quella in centro quella lì questo è molto carino che figata di artwork io voglio così orrendo dai no ragazzi è bellissimo a me mi piace questo stile mi ricorda picasso proprio made me sick proprio mi fa ammalare questa merda ma è picasso non è picasso assolutamente è semplicemente brutto ecco lui è carino lui è molto carino invece a livello di artwork non è imparagonabile a quello di prima l'effetto è molto carino allora l'effetto dice vabbè a parte che lo puoi fare con il caduto di albaz e un incantatore luce puoi utilizzare il secondo e il terzo effetto una volta per turno il primo è dice che non può essere targettato con effetti di carte quindi top inoltre dice che durante il turno dell'avversario puoi targettare due mostri nel cimitero evocali specialmente uno per ogni terreno e questo sarà un cancro assurdo già mi immagino il peggio schifo che ti ripiazza quello che non fa specialare i mostri che già te lancia attualmente branded Jojen ma io dicevo non dicevo Jojen io chi dicevi io parlavo di dopo discepolo di Ra esatto quello di primo turno è grossissima grazie a Dio non è non è incantatore ma fa grazie a Dio esatto no perché se no ti immagini facevi fusione poi lui li ritirava mettevi il caduto di albaz sul tuo terreno e il discepolo su quell'altro e vabbè sei forte veramente veramente rotto poi il secondo effetto dice che se questa carta è un cimitero puoi tributare 4 mostri nell'extra monster zone cioè nell'extra e ogni giocatore center main monster zone e fidu special summon discard cosa vuol dire? essenzialmente pulisce le zone che stanno centrali e nelle zone extra ok quelle per i link li tributa tutti e 4 quindi manco li distrugge più tributa non puoi attivare niente in catena e si rispeciala lui quindi già mi immagino che te essenzialmente evochi lui l'effetto rievochi due mostri e li metti chiaramente nelle zone centrali così già quelle due ce le hai piazzate a meno che lui non se lo toglie e appena lui si evoca una qualsiasi cosa nella zona extra se lui viene distrutto lo puoi rievocare ovviamente la bersaglia non lo farà mai però se si trova condizionato però gli blocchi link eh si te se non lo fa gli blocchi tutti i link diciamo che adesso se giochi contro Tierlamens non c'è problema perché anche lui gioca di fusione però qualsiasi altro mazzo che sfrutta link come meccanica principale dico inizia a essere difficoltoso già tipo giochi contro sprite ti fa elf ci pensi due volte sul tirarlo molto carino soprattutto per il fatto che che tributa secondo me è carina come cosa comunque secondo me visto che hanno fatto il supporto luce questo sarà uno degli ultimi supporti al mazzo e abbiamo anche un altro supportino questo l'eldrick secondo me questo ha fatto salire cartesia di prezzo ad artwork è bellissimo si è un bestione proprio ah la Mitch alla fine cartesia te me l'avevi data purtroppo si sai quanto sta adesso eh 33 non lo volevo sapere andiamo avanti allora legite l'effetto si puoi utilizzare solo il secondo effetto di questa carta una volta per turno ah è hard once per turno perché dice delle carte che si chiamano come questa carta ok il primo dice una volta per turno per una carta lascia qualsiasi extra deck puoi far guadagnare 500 d'attacco tutti i mostri scoperti che controlli poi puoi negare l'effetto di una carta scoperta sul terreno fino alla fine del turno e questo è molto buono perché dice negare l'effetto di una carta scoperta non di un mostro quindi me lo immagino anche contro i floodgates si che ce l'hanno già attivata gliela puoi negare si cioè puoi negare anche l'attivazione o solo l'effetto che è già attivo sul terreno no l'effetto che è già attivo si però che ne so me lo immagino contro i vari che ne so rivalry o gozen no quello che mi chiedo io è se c'è skill drain in campo non puoi attivarlo non posso perché l'effetto no perché è un effetto attivato si però si roba come gozen there can be only one poterli togliere con una carta così non è ma anche terreno fastidioso tipo necrovalle o esatto o la trappolina dei tier lament che è continua o minigate nel caso ci fosse stata mina sarebbe stata enorme questa perché tanto tu sinkri tutto perché tanto è livello 12 arrivi allo stesso numero dei mostri dell'avversario neghi mina e stai apposta nel buy full combo carino e poi il secondo effetto quello che è once per turn hard once per turn dice che durante l'end phase se è nel cimitero perché ci è stata mandata questo turno può evocare specialmente un mostro luce incantatore dalla tua mano deck che ha lo stesso attacco e difesa ah di lui ok no pensavo un attimo attacco no no non di lui che c'ha attacco uguale alla propria difesa quindi che so mille 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 due mille due ok che non ci ho presente cosa ci sia disponibile però secondo me è da capire si ho sicuramente gestito forse qualcosa d'archetipo sicuramente ma questo io come lo intendo come cioè non capisco d'archetipo se è tipo un eldlitch o qualcosa altro dovrebbe essere un eldlitch però non penso che si giocherà in eldlitch io non ti immagini penso proprio chiaramente no tutto l'archetipo che cambia la meccanica lo fa diventare combo oddio però aspetta il livello ah una costraint che non avevamo considerato è il fatto che per evocarlo tu sei forzato a mettere un tuner di livello 4 e uno più non tuner ovviamente le condizioni sono grosse però tanto ci deve essere la meccanica si uscirà qualcosa tanto questa è salita per cartesia ah ho capito ho visto come evocarla c'era cartesia e una fusione che usciva in fotone per nova che mi era uscita a me dal box che ovviamente loro non hanno ancora visto quindi il modo per tirarla c'è ma tra l'altro eldlitch che livello è? eh non me lo ricordo 10? non c'ho proprio idea 4 6 8 10 si eldlitch è 10 quindi no non c'è troppo più niente penso con l'archetipo di eldlitch ah ok che dovrebbe avere cartesia nell'artwork non so chi è questa qua però c'era lei cartesia che permetteva di tirare lui questo è un livello 6 7 8 9 o 4 6 8 8 se cartesia eccolo il livello 4 tuner esatto sì allora passiamo adesso al nuovo supporto tribri così sei contento e poi anche un'altra carta che secondo me ha del potenziale cioè l'oletta sembra stra OP però c'è qualcosa che non mi porta questa questa è molto carina secondo me ci saranno delle versioni particolari più incentrate su UDS e versioni che non la giocheranno per niente però essenzialmente rende utilizzabile il link nuovo che esce adesso nella prossima espansione Ucephalus 2 ah ok quello di Fodacar perché cosa fa essenzialmente questa qui dice che puoi attivare questa carta hard once per turno e se controlli un mostro link puoi mandare un mostro tribrigata dal deck o extra deck al cimitero per targettare un mostro con effetto sul terreno e in base al tipo di carta che te hai mandato applicare questo effetto se hai mandato un mostro cambia l'attacco del mostro a zero fino alla fine del turno se una magia nega l'effetto di quel mostro fino alla fine del turno se una trappola lo rimbalza in mano e perché fa come goccioline cioè una versione debolissima no 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 aspetta cioè qui mandi solo una carta al cimitero e o lo sposti a zero o gli neghi l'effetto lo ritorni in mano in base alla carta che mandi però cos'è il bello perché se noi mandiamo una carta dall'extra ci partono gli effetti dell'extra quindi ad esempio potremmo mandare che ne so perrigit e pescare uno e rimettere uno in fondo al mazzo o ancora meglio quell'altra la versione pompata di kit che ti ha da in mano revolt quindi già con una carta ti sistemi la mano ma la cosa più interessante è se ti mandi una magia o una trappola quindi puoi mandare ot che ti fa da ulteriore neghino o rende vu che ti fa un'altra interruzione e andando anch'essa poi al cimitero una volta che ha risolto ti permette già di avere le condizioni per evocare bucefalus che è il link nuovo l'altro supporto che era stato super snobbato giustamente perché c'era una condizione di evocazione troppo forte che tu potevi evocarla solo se avevi almeno due magie trappole tribligate al cimitero e questo chiaramente era inutilizzabile finora perché nelle liste normali si gioca solamente una revolt quindi era un po' cioè avresti dovuto cambiare totalmente lista solo per raggiungere lui poi lo spazio nell'extra è poco invece adesso inizia magari ci si può ragionare posso inserirlo praticamente non so se lo vuoi aprire è bucefalus che è un altro supporto nuovo che è uscito è ph luce 2 trovato trovato allora praticamente sta carta del cazzo cioè dico la magia ti permette di mandare al cimitero sia il neghino che nella versione che avevamo provato te dovevi mandare al cimitero con con un goods mi sembra con kit no con kit e quindi ci avresti il neghino cioè la carta che è mandata al cimitero come neghino in più la magia rapida che ti ha fatto da neghino in più la rapida che ti rimbalza e in più hai due magie trappole al cimitero e quindi puoi evocare bucefalus non è assolutamente male considerando che è un 3-5 e c'è anche l'effetto che è abbastanza carino perché se non so diceva che quando viene attaccato puoi bandire lui più tutti i mostri dell'avversario fino alla fine del turno se non vorrei dire una stupidaggine se è veramente così è grosso tanto nel caso controlliamo considerando l'uscita di questa ovviamente sarebbe uscita una carta magia perché tanto caso contrario non potevi assolutamente tirarla quindi non aveva senso neanche farla uscire esatto infatti dice che come condizione innanzitutto tu non puoi evocarla specialmente se non c'hai se non c'hai più di due carte magia trappola tribrigade nel cimitero e quindi già solo con quella carta te ne mandi due poi primo effetto continuo che dice che quando tu evochi specialmente un mostro l'oppo non può attivare carte affetti ecco su qui vabbè carino ma la cosa più interessante è quell'altro che dice quando un mostro dichiara un attacco puoi bandire questa carta e anche tutte le carte che controlla il tuo avversario e se questa carta viene mandata al cimitero continua aspetta anche molto più carino perché se viene andato al cimitero puoi mandare un bestia guerriro bestia o bestialata dall'extra deck al cimitero e quindi è un'ulteriore ripartenza perché se non c'è lui poi ti che ne so ti rimandi verbrum per darti la carta magia trappa o ti rimandi fergit per sistemarti la mano però sì molto carino molto carino cioè sì per me verrà fuori qualcosa di interessante adesso te servirebbe il neghino per le magie trappole perché altrimenti heavenly o dark ruler ti spezzano ma ti dico a questo punto è ancora più semplice non ci avevamo più problemi perché se provassi ad utilizzare la versione quella che poi porteremo nel canale finiamo il primo turno con un omni negate più un negate di magia trappole che parte dal cimitero e quindi ti ritrovi che puoi passare sopra sia heavenly che a dark ruler l'omni negate dici l'araldo l'araldo sì e poi ovviamente più c'hai f0 per i mostri e la carta che ti rimbalza il mondo dici non passi per la pollusa e passi così ma sicuramente è molto più consistente non rischi di perdere tutte le risorse con due carte molto carino molto carino sono sicuro che verrà fuori qualcosa di buono poi abbiamo sia il supporto b trooper molto carino questo si giocherà grazie a dio perché quelli di ipoteca di un po' sì un po' ma non è tanto questo no scusa questo non so se si gioca è un'altra fusione che esce sono tanti supporti e i mostri quelli più grossi che aiuteranno tantissimo sia la b trooper che la raptrix quando uscirà nello specifico c'è un ciccione immenso che è tipo livello 12 se non sbaglio che tu lo puoi evocare special bandendo 3 pianta o insetto dal cimitero e puoi scegliere di attivare l'effetto e distruggere tutti i mostri dell'avversario in cambio lui non può toccare quella battle face se non sbaglio tipo un 4000 un 3000 d'attacco certo siamo in mezzo dopo lo rilinchi lo rifondi nel senso non credo sia quello che tu l'hai vabbè poi veramente forte poi hanno fatto una cosa gratis il nuovo supporto di Bromancer questo non l'ho comprollato per niente questo neanch'io sincero puoi trovare una carta che con questo nome una volta per turno puoi utilizzare il terzo effetto una volta per turno cosa fa? 1 quando questa carta risolve ti setti una magia trappola di Bromancer tra se stessa tutti i mostri rituali di Bromancer guadagnano attacco uguali al loro livello per cento e se un vostro rituale viene evocato tramite rituale sul tuo terreno spattino la trappola dell'occo diciamo che è carina però dipende dal formato se non settano che cazzo ci fai? carino al fatto che ti settano di Bromancer per quello non so poi non conosco bene il mazzo io non ho insomma ho avuto che fare con i Bromancer ma neanche io non ho mai usato diciamo che adesso passiamo alla carta secondo me più interessante questa non so se l'hai mai letta no è particolare carta magia normale vai vai durante questo duello proprio durante questo duello esegui ognuno dei effetti seguenti non puoi attivare gli effetti dei mostri nella mano puoi pescare due carte quando fai la draw phase normale puoi evocare normalmente due volte per turno no non l'ho capito ecco te l'ho detto io l'ho letta non l'ho capita c'è qualcosa di un po' troppo troppo cioè tu parti poi puoi bandire questa carta dal cimitero scartare una time rendering morganite durante questo turno quando evochi normalmente un mostro il tuo oppo non può attivare gli effetti dei mostri ma cosa cazzo ho appena letto lo so l'unica condizione è che durante cioè tanto la tv normalmente puoi fare due draw phase non so se dopo che l'hai attivata puoi pescare la seconda carta o durante la prossima draw phase peschi due cioè l'unica condizione è non poter attivare carte dalla mano no gli effetti di carte dalla mano però alla fine che te ne frega ma poi spero che è una volta cioè una volta tu puoi farlo lui c'è scritto durante questo duello puoi attivare ognuno di questi effetti quindi te l'attivi e poi ti devi ricordare che puoi attivare una di queste tre cose per il duello penso di sì mentre il secondo effetto penso sia più volte cioè se ne ho altre al cimitero posso usarle cioè da una parte sembra fortissima dall'altra non so veramente se si utilizzerà molto particolare perché nel formato attuale non puoi permettersi un tier non si può permettermi una roba del genere sprite neanche perché le vocazioni speciali lo wander flander lo usa flander no perché non devi rivelare no gli effetti partono dal terreno o da le bandite ok non gioca entra cioè non so come prenderla se è una carta che salirà a stecca se è una carta che farà come la slayer come si chiama ultimate slayer ultimate slayer o se cala come la 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 carta che doveva essere la nuova barrier che cali non credo però potrebbe rimanere stabile su un suo prezzo perché non è una staple generica però non si possono permettere tutti i mazzi dipenderà molto dal formato particolarissima particolarissima sono curioso di vedere come evolve questa situazione questa secondo me dobbiamo iniziarla a testare anche così a buffo ne mettiamo tre per nel mazzo e vediamo come va tanto per no sicuramente sicuramente perché ti immagini l'attivi per fare la seconda summon quattro turni dopo dici allora va bene pesco due a caso perché non so se ti ricordi ma quattro turni fa ho attivato quella magia non l'avevi già attivato sì no forse sì ma poi non puoi attivare gli effetti dei mostri dalla mano per quel turno cioè se fosse solo per un turno a posto no perché non c'è scritto fino a quanto quindi potrebbe essere per sempre durante per tutto il duello è particolarissima non l'ho capita sono sincero mi voglio in forma bea a riguardo ovviamente questa palese carta secret da 40 euro come minimo e infatti qua la targhetta come una misteriosa magia sta arrivando comunque c'è dovrebbe che so qualcosa con la meccanica nuova no te lo stavo per dire ho detto guarda questo è praticamente il set nuovo ci sono ancora tanti slot da tirare fuori da come so la meccanica nuova dovrebbe uscire a marzo cioè nel pratico no aspetta questo è crimson access forse il set ancora dopo perché ci deve essere scritto due list quindi mi sa non sta qua boh non c'ho idea sono veramente confuso non so come prenderla potrebbe sì anche avere a che fare con la nuova meccanica su questo non lo metto in dubbio e va bene ragazzi penso che per i supporti con oggi abbiamo finito adesso tocca andare a parlare di quello che abbiamo combinato nel corso degli anni e ce n'è tanto tante robe da dire direi che parti te perché allora io partirei da quando truffavamo i bambini in spiaggia è una bella storia era una vita fa sì 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 neanche troppo lontana loro penseranno che potevamo avere 14 anni forse siamo arrivati a 17 però sì ma perché c'è stato un tempo che cioè lì mi piaceva di più Yugi per il semplice fatto che tu andavi spiaggia tutti gli stabilimenti che giravi trovavi roba i bambini i bambini che giocavano che avevano gli album questa cosa che è andata un po' a svanire io l'estate al mare non ho visto nessuno che giocava assolutamente al massimo giocano col telefono è una cosa terribile festissimo sì cioè da una parte mi dispiace perché non vedo i bambini giocare a carte come facevo io dall'altra sono contenta perché sono contento perché dico vabbè tanto i bambini a 25 anni non posso truffarli dispiace meglio che che non li vedo siamo i poliziotti guarda ti giuro mi è capitato una volta ero andato se si parla oramai di 4 anni fa perché non ero ancora fidanzato ero andato al no 5 ero andato a Civitanova in bicicletta da degli amici dell'università che vogliono in bicicletta ti ricordi quella volta che son venuto con Kebab e venivo da Civitanova in bicicletta e tu ci avevi a casa a Marcelli ero andato letteralmente da Marcelli a Civitanova in bicicletta certo in ritorno ci avrò messo tipo una roba come 40 minuti andavo più veloce di una macchina te bastante sì no è stato terribile è stato no da una parte terribile da una parte incredibile e stavo con stavo aspettando gli amici miei e vedevo sto gruppo sta zona recintata con questi bambini che giocavano a carte li fissavo come un variaco e dicevo no assolutamente ragazzi non pensate mi sarebbe piaciuto essere lì con il mio album e dire ma vuoi questa carta numero per queste carte super belle e costose e loro mi dicevano sì grazie grazie come faceva Carretta Carretta comunque è ancora vivo sì però non penso che lo faccia più fuori dalle scuole elementari ma non penso l'abbiamo mai fatto fuori dalle scuole elementari ma sì erano successi dei casini assurdi perché praticamente lui porino era bravissimo cioè non ho mai fatto un caso semplicemente voleva scambiare carte io facevo gli elementari lui era il Falcone e c'era le madri che si incazzavano perché vedevi questo signore Carretta che come sia quanti anni ci avrà avuto all'epoca una sessantina se non di più sì ma davvero che ci prendeva sì sì il tavigiano diceva vuoi venire in macchina che ti faccio vedere il mio album di carte io questo lo so no 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 non prendetela ma veramente sì sì te lo giuro però era una persona bravissima nel senso lo andava a prendere tornava lì davanti e faceva gli scambi ma gli scambi trassava tantissimo ma no lui non ha mai saputo i prezzi lui prendeva quello che gli mancava per la collezione no bullissimo mi ricordo che c'era qualche genitore che si incazzava chiaramente sei sicuro di quello che stai dicendo al cento per cento con me o ah ok prima persona a posto mi ricordo ancora una volta perché ci sono rimasto in merda mi hanno preso un sacco di carte per una carta che io non avevo mai visto mai visto ma era un fiolo non è che seguivo ancora i forum né un cazzo e niente dopo due settimane era la carta che stava nel nuovo structure deck la ultra del nuovo structure per quello che non avevo mai visto ah che carta era? era un insetto che aveva lo sfondo verde e lui era blu assolutamente non so di cosa stai parlando mi ricordo il nome te la tiro fuori adesso te la mando perché era ma ancora me la ricordo ce l'avevo da qualche parte se non sbaglio no ma a me capita una volta c'erano c'era sto ragazzino anche ero giovane io parlo metto sempre le mani avanti forse avevo 16 anni e mi ero fatto scambiare da questo un drago di Vietano e praticamente il giorno dopo la madre cioè a me me lo dissero che la madre di lui andò in giro a cercare chi era sto tipo che aveva preso il drago di Vietano perché il figlio non lo poteva dar via non mi ha mai più visto il drago di Vietano dopo no l'ho dato via non esiste più è andata così ragazzi praticamente da noi la costa delle Marche che per me va da il porto di Numana a porto dei Canati non esiste altra zona della costa delle Marche e il centro nevralgico all'epoca era uno stabilimento che si chiamava la Lanterna se state sul canale Discord adesso capite perché è il posto dove si chatta dove c'è la chatta e praticamente lì c'erano anche le persone più brave a giocare era la terra natale dei cosacchi no 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 era lo stabilimento a fianco alla piazza e io lì sono stato trassato così io all'epoca ero tra gli scarsi ero il più bravo però ovviamente all'epoca non esisteva Car Market non seguivo il competitivo cioè avevo il mazzo incantatore e avevo scoperto il Simoki Barna prima che mi spiegassero che cos'era era una versione non funzionante però che funzionava coi danni quindi venivo in continuazione inculato mi prendevano sempre una marea di roba ma vabbè io a mia volta andavo in giro e truffavo in giro cioè prima ricordo ci siamo spostati allora quello era più avanti non so se ero con te o con altre no mi sembra ero con te che ci siamo finti ero con me c'era mi sei fidu ti faccio da spalla sì sì vabbè no aspetta non è che noi ci siamo finti monaci perché spieghiamo la lore praticamente c'erano delle persone che erano una bancarella che erano veri monaci e che praticamente vendevano cose nerd tra cui carte di pokemon yugi fumetti e tutte queste altre cose a un certo punto e fa ridere di per sé cosa? già l'ha coppiata erano veri monaci che vendevano carte di yugi e già fa ridere no no però loro stavano in uno monastero che poi io non sapevo la loro età ma nel pratico ci hanno tipo due anni più di noi ma pensi a te sì erano molto più grandi eh invece uno di loro tipo adesso fa l'avvocato e uno sta ancora in monastero e così praticamente stavamo girando per gli stabilimenti e a un certo punto ho un tipo un ragazzino ci fa vedere il suo album c'era un guardiano del cancello uno dei monaci mi disse proprio che lo stava per prendere un guardiano del cancello da pacca andando in giro beccai questo bambino che ce l'aveva il tipo il ragazzino mi disse ma voi siete i monaci inerenti a quelli della bancarella io la prima cosa che pensai è diciamo subito sì sì dissi di sì perché tanto era impossibile che comunque i monaci veri lo venissero a sapere 100-100 due giorni dopo quando li incontrai la prima cosa che mi dissero fu vi siete spacciati per monaci e io un attimo l'ho guardata dietro sì celebbero con me per un po' di tempo ma tipo tre giorni e poi passò tanto gli davo una marea di carte non dovevano rompere i coglioni poi pure loro sottoprezzavano un voto sì sì no te lo dicevano proprio ma il è come quando faccio io glielo dico proprio guarda è così se no te li tieni o me paghi me dai soldi se no penso a livello dei truss è questo cioè no mi è capitato una volta andai giù al porto di Numana era il meta di praticamente spellbook e sirenide e dragon ruler bello ci fu questo bambino che aveva abismegalo e la pristis nell'album io in 4 secondi gliele presi e me ne andai subito no ma io mi ricordo che c'era la terra natale dei cosacchi che era una cosa finta c'era allora drago cosacco che stava a 100 120 180 può essere 180 stava un bel po' e chiaramente non ti aspetti di trovare drago cosacco quando va in giro al mare e invece c'era questo stabilimento dove ci abbiamo trovato in 3 giorni differenti 3 bambini di merda ma tipo ce l'hanno avuto 10 anni nell'album insieme a carte comuni e rare c'era sti draghi cosacchi ed era una cosa mistica che poi te li davano un cazzo e da allora quello stabilimento era diventato la terra natale dei cosacchi ma guarda io ho la netta sensazione che per quanto fosse la carta più costosa del formato ne uscivano veramente tanti perché attualmente sul market ce ne sono una valanga a parte adesso che le hanno comprate e sono saliti però ce ne erano veramente tanti rispetto a quella che poteva essere una bismegalo o una pristis che attualmente costano più del cosacco la bismegalo partiva già da 20 e non c'è avuto nessun hype la pristis partiva da 20 prima che smannassero giudizio di spellbook quindi nel pratico secondo me c'è stato un aumento dei prezzi insensato di alcune carte quello è stato il meta più bello che ho giocato secondo me quando c'era spellbook shadow no spellbook shadow tu stai su due meta completamente differenti uno è spellbook ancora c'era shadow no shadow è arrivato dopo c'era spellbook dragon ruler spellbook dragon ruler e sirenide poi ovviamente c'era il clifford sotto sotto no clifford è un altro formato perché ho unito di due formati mi sa poi c'era shadow clifford no c'era shadow satella necroz bia clifford no perché clifford è la prima dei pendolo però era con loro perché io mi ricordo che è stato l'ICS che abbiamo fatto noi io mi sono trovato contro il clifford per l'ICS però cioè alla fine era un ICS estivo quindi cioè lì praticamente si stava fondendo tutto quindi può essere che il lei non me lo ricordo c'è proprio un vuoto di memoria comunque sì quel periodo lì per me è stato uno dei più belli attualmente il gioco mi piace il competitivo però non potemo spendere 40 minuti per far tre turni no ma alla fine c'è cioè il fatto è che adesso c'è abbastanza mazzi se ci fai caso cioè è T0 sì però comunque sia c'è Tirlament c'è Flander c'è i Sprite vabbè i tre mazzi del meta che ci stanno sempre nel senso la situazione non è cambiata ma allora c'erano molti più mazzi probabilmente perché secondo me era tutti leggermente più deboli ma comunque forti sì sì no ma te lo ho detto la meccanica attuale c'è anche 5-6 mazzi diversi sì ma è la meccanica attuale che è sbagliata non c'è santo che tenga e poi cioè ognuno dovrebbe avere il turno suo qua i mazzi hanno i turni dell'avversario io non ho mai visto un mirror match di T.R. Lamens i Shizu ma secondo me non si augura no io l'ho visti purtroppo e com'è cioè tutti giocano in catena a tutti sì da mal di testa bello cioè veramente schillato devi essere veramente bravo per fare un mirror del genere su quello non lo metti dubbio però ho visto le top degli ultimi CS quelli che erano in in feature belli degli incontri però veramente da mal di testa no no il gioco è sempre più schillato sì però cioè io non posso andare via col mal di testa è quello che secondo me è la problematica principale poi c'è stato quell'ICS che te hai partecipato con BIA se non sbaglio no no io con BIA non ho mai fatto un ICS l'ho fatto allora l'ICS pensava che c'eri te no l'ICS che ci siamo fatti insieme non era cioè io me ne son fatto mi son fatto un nazio e un ICS con heavy swarm poi non era il mio con Iro a Iro c'avevi Iro sì con Irimi ti ha riportato Iro allora c'ho un aneddito incredibile per quello per cui l'ICS perché stavo facendo il torneo quello che dava il tappetino il un side event vinco la prima vinco la seconda becco la terza contro Necroz e la prima la vinco la seconda la perdo la terza praticamente questo qui parlava cioè parlava inglese la lingua sua e praticamente c'era un amico mio dietro che io non volevo lo facesse però si era messo a farlo mi diceva no no tranquillo non c'è niente in mano non può fare assolutamente niente oramai ha perso io perché c'avevo Dark Lord in campo Dark Bride settata e Dark Bright e che pezzente e quindi praticamente così no ovviamente non mi ha fatto come nell'anime i gemellini che stavano col trasmettitore a raccontare le carte dell'altro no praticamente praticamente mi sono portato a casa il tappetino che non so più neanche dove sia però è ancora sigillato nel caso dovrebbe essere un tappetino bruttissimo di Yuma quindi capite quanti anni fa è che cioè da quanti anni è che non vinco eh capirei io con lì è stato l'ICS che mi sono mangiato letteralmente una top non mi ricordo quanto è arrivato no facevo vedere il peluche l'ultima cosa che ho vinto che tipo è quest'anno avevo fatto da matti il day one però avevo dato per scontato che cioè quando eravamo partiti per andare a Rimini avevamo dato per scontato che venivamo eliminati subito ci avevamo andati così per lo sport per vedere l'ICS non per partecipare seriamente io invece partecipai con il ritual beast contro ogni aspettativa feci 5-1-1 perché ho preso un buy e non entraste perché c'era il buy no entrai in top solo che era il giorno dopo e noi eravamo piccoli e non avevamo preso per dormire fuori no 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 abbiamo dormito fuori tutte allora no il mio 100-100 no a Rimini non abbiamo dormito fuori perché io poi ho controllato ero entra ero avevo chiuso tipo centesimo e c'era la top 128 no ce deve essere un altro motivo perché io ho sempre dormito fuori a parte il mondiale di Yugi che sono andato siamo andati a vederlo l'ultimo giorno e tu non c'eri forse io non ho dormito fuori quella volta perché io mi ricordo che io ero piccolo sono tornato a casa col treno e poi dal dal sito con il Yugi dove metti lì di tuo della tessera ce l'ha scritto 100 come posizione e dal CODO c'è scritto che i primi 128 si partecipavano e io lì mi ero mangiato i gomiti vabbè ma tanto il ritual beast era un mazzo del merda non si meritava di entrare in no no ma che cazzo dici è stato l'unico meta anzi è stato l'unica volta che potevo fare veramente una bella top perché è stato l'unico meta in cui il ritual beast faceva qualcosa perché poi totalmente a caso totalmente a caso hanno segato cannauk ed è stato un bel momento per me ed ho smesso di giocare letteralmente no ma è uscita giorno 10 esce la banner giorno 11 do tutte le carte che ciò arriva e dico basta io ho chiuso questo gioco di merda ragazzi piccolo spoiler a breve avrete anche una decrisi di ritual beast con mono no no se ne avevo 3 no ulti galli è peggio perché ne abbiamo 2 vabbè ormai per il meme ritual beast poverino ho fatto il suo tempo l'ho testato in tutte le salse non funziona cioè adesso è di nuovo consistente cioè parti di elder cannauk al primo turno il problema è che cioè fisso cioè non ho mai briccato il problema è che la board finale che allora era una board immensa perché facevi un pop di 4 carte senza targettare adesso è inutile cioè ti ci passano sopra come niente anzi tirla metti su un favore se gli spacchi diciamo che attualmente l'unica cosa che puoi fare è lì stare 20 minuti devi fare la combo dimostrare di essere schillato e poi basta nel senso l'avversario ci ha amato più forte è più schillato e ti sfonda il culo diretto assolutamente sì non c'ha board non c'ha negate cioè c'è multigai a pelio ma se vuoi chiudere con lui devi avere solo lui in board perché come board finale c'è lui e due carte in mano quindi due omni negate e basta ma guarda io faccio turni che non metto giù neanche l'omni negate se non becco regolus o se non riesco a stracciarmelo ma poi fa qualcosa invece lì non c'è proprio niente scompi per un quarto d'ora per non lo so un po' un po' così poi non c'è risorse che non puoi fare niente devi per forza fare tutto quel giro oppure puoi passare direttamente oltre in che senso? no nel senso per arrivare all'omni negate devi per forza fare tutto no no devi fare tutto il giro sì sì vabbè ci ho sperato di non vedere mai più combo del genere però no che poi all'epoca mi faceva strano una combo così veloce così lunga attualmente è la normalità nel senso non mi non mi stupisco più di niente ma sì a voi a scherzi ma penso che la full combo del tribrigade è uguale la stessa cosa se non è uguale eh sì e non mi da problemi buttarlo giù quindi se vede che abbiamo cambiato totalmente mentalità dalla ah cazzo mi banna un mosto sul terreno a cazzata quattro omni negate in campo passo tranquillamente mamma mia è cambiato totalmente il gioco no non perché capito allora era forte perché c'hai i clifford che gli toglievi le spell trap cioè i pendoli sì e RGG poi vabbè c'hai spellbook che sì era fortissimo ma gli facevi fuori la priestess no ma su spellbook è molto più lento no su spellbook alla fine lì il problema era perché la versione che si giocò fu la versione non con la priestess ma con jojen perché ti tirava jojen e ti negava le special sì è vero tipo priestess però anche lì riuscivi a giocarci comunque perché ti faceva la double normal rito il beast non era special il secondo tizio quindi le bestie avevano tutti parecchio d'attacco io buttavi giù c'è il modo per girarci intorno perché spellbook aveva carte come fatto quindi ti poteva bannare le carte sì chiaramente era forte cioè spellbook allora era un t1 assoluto ma guarda io nel corso degli anni penso il primo mazzo serio che mi sono fatto dopo aver giocato mistoni a caso fu vabbè questo un mix incantatore poi come ho detto simoki barnac che non funzionava un simoki barnac che funzionava un tantino meglio quindi sempre mazzi cancerogene non sono cambiato da allora adesso poi mi sono montato il mech che l'ho portato avanti una vita ragazzi il primo mech l'ho giocato in tutte le salve con il dragon ruler con con l'ingranaggio antico veramente ragazzi sono tornato poi nel 2023 a rigiocarlo e poi bello c'è avuto hero no c'è avuto heavy swarm prima anche quello portato avanti una vita che c'è un vecchissimo video ragazzi con una top diciamo al reggio di rimini vi giuro ragazzi a quell'evento dicevo ok per ribaltà sta partita mi serve questa carta ero tranquillissimo pescavo la carta che mi serviva ribaltata alla board vi giuro ragazzi ci ho fatto non so quanti turni era tutte così poi ovviamente un paio l'ho perse però tutte così è stato incredibile è la mia più grande soddisfazione in yugi poi da lì si poi da lì ovviamente ho montato maschediro che l'ho portato avanti l'ho portato avanti sempre tanto anche un ics no un ics guarda lo voglio rimontare prima o poi ci perderò tempo e lo rimonterò era carino tanto usciti i supporti ho detto no non voglio modificarlo do via tutto e da lì dopo boh che cavolo ce l'ho messo a montare via c'è avuto eh non so se c'ho no se c'ho stato c'è stato un periodo che ero senza mazzo ah no avevo comprato i mac con gli structure ma non l'ho mai giocato e avevo comprato gli structure abc non l'ho mai giocato perché tanto era un periodo che giocavo veramente poco quindi non non ero neanche stimolato a averci un mazzo poi ho giocato Sky che ho dato via fine ics e poi via si e sai il giro mio è stato questo perché è carino si perché un ics non lo sono fatto quindi un anno sono stato senza mazzo però è stato tutti i mazzi divertentini si mi ricordo che era bella robetta il hero mi piaceva tanto come ti hai rimontato ma guarda mi ricordo che era proprio una bella lista ti dico nel corso degli anni poi io c'ho avuto anche tutto Bujin che poi l'ho venduto svariati sei samurai tutti venduti c'ho avuto Chaos Dragon che è stato è stato bellissimo quel mazzo sono divertito un sacco a giocarlo poi c'ho avuto uno spellbook tutti i mazzi che poi davo a mio fratello nel senso lui aveva il mazzo competitivo però li montavo io cioè io mi procuravo le calde penso Chaos Ruler è l'unico mazzo che mi è rimasto proprio qua da averlo dato via e che attualmente non fa niente però era veramente figo io mi ricordo che il primo mazzo in assoluto che c'ho avuto competitivo cioè a parte i mistoni di quando iniziavi quando ho iniziato a giocare a giochicchiare recentemente il primo mazzo bello c'è Fortino che c'ho avuto era stato il macro monarca quello pure io era carino quello lì penso che tutti perché era uno dei mazzi più economici che c'era in assoluto e dà soddisfazioni poi c'ho avuto il periodo in cui ho fatto gladiatore bestia sei samurai qua ci sono mazzi che passano tutti sciabola x me l'avevo divertito tantissimo ed era pure non mi ricordo se era meta o meno allora mi sembra che faceva qualcosa il sciabola x non lo so io ero scarso e vedevo questo forte che giocava sciabola x quindi non mi sono mai reso conto se era un mazzo veramente forte o meno però dal come so non è mai stato toccato quindi secondo me è una roba che è stata forte ma è che finita il dimenticatoio sì aveva fatto il percorso suo e poi me ne ero passati tanti di quelli inutili poi dei mazzi veri 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 ci ho avuto il ritual beast il mazzo che mi è piaciuto mi sono gustato più di tutti che era il demon eterno quando era full power sì quello ce l'ho avuto pure io l'ho portato alla summer cup alla finale come for fun che mi ricorderò per sempre che mi era piaciuto tantissimo invece me l'ho fatto il vampiro sì me lo ricordo e era divertentissimo divertentissimo questi mazzi del cazzo con gli zombie ce l'hai proprio sì sì gli zombie mi sono sempre piaciuti poi vabbè le arpie e di roba da meta 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 c'ho avuto Satellar Night Evil Swallow di mio fratello che però ho portato come te io l'ho montato e poi lo usavo anch'io c'è stato un periodo il più breve della mia vita in cui ho avuto Shadow perché lo comprai a un tizio che era impanicato tantissimo dalla Banned l'ho portato a un local e poi stava veramente per uscire la Banned e l'ho rivenduto subito perché ero più impanicato di lui e ho fatto bene perché poi è stato toccato sì non mi ricordo se avevano toccato Shadow Fusion no Super Poli all'epoca poi non mi ricordo se c'era qualcosa di Shadow forse Shadow Fusion o il Shadow e poi che mazzi c'erano allora c'ho perché c'è stato un periodo che ho fatto deck jumping come se non c'erano un domani quello che ho sconsigliato a tutti quelli che vogliono iniziare a giocare compravo un mazzo me lo montavo ci facevo un local poi lo vendevo e me ne facevo un altro boh non lo so ci mette almeno Geargia non so se l'hai mai usato sì c'ho avuto Geargia ma per quello la calda poi vabbè i forfar manco ridimo perché c'ho avuto Yosenju c'ho avuto Pugile Indomito quelle puttanate lì che proprio era robe che cioè montavo non ho manco mai portato un evento cioè me lo montavo c'erano due partite con il fratello e poi lo ributtavo nelle comunasse ma Yosenju c'aveva il superchè ma l'ho usato pure a un evento su Master 2 ed è stato carino perché non potevo utilizzare potevo utilizzare solo le common quindi era l'unico mazzo che funzionava a un minimo e no a livello questi qui a livello di meccanica qual è quella che ti piace la meccanica preferita vabbè io so di parte a me quella di ritorbista mi piaceva da morire che vocabili no 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 meccanica volevo dire la meccanica di extra di extra ah ecco che si ricollega uno dei mazzi che mi ha divertito di più direi sincro perché c'è avuto il periodo che ho giocato il turbo sincro lì quello con il rottame ah ok era veramente divertentissimo a me sincro spam qualsiasi mazzo mi piace da morire e penso che è la meccanica che mi porto più nel cuore allora io ti dico il sincro non l'ho mai apprezzato molto ovviamente quando sono uscito li giocavo però non non mi ha mai lasciato niente li sto rivalutando adesso perché posso tirare barone nel mazzo e ho capito che i sincro sono forti ci ho messo tipo 15 anni a capirlo ma alla fine cazzo e se no cioè per me gli Xyz tutta cioè mi hanno svoltato l'esistenza possibilità di tirare Master Shock è stato incredibilmente forte che si faceva con tre livelli 4 quindi in gadget era OP in più costava poco perché usciva da teen ragazzi era stava un molto bello ne avevo uno perché ero povero però ce l'avevo poi non lo so io spero che la meccanica nuova sia altrettanto bella e valida nel senso i link belli però non mi hanno lasciato niente esatto è fina mi piace essere sincero come meccanica però non so forse sarà stato che i sincro allora te passai da dove c'è solo le fusioni a poter fare quel periodo che c'è questo periodo ho ripreso bene quest'anno quindi non so sono rimasto lì io spero con la meccanica nuova che giocandomela bene fin dall'inizio riesca ad apprezzarla a proposito dei mazzi alla nera di sincro ho giocato tanto per quello penso che è un altro dei mazzi che si è passati tutti come da delle carte proxate i vagli proxati e i sincro proxati allora poi c'era Young Zing tipo come mazzo sì 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 ma è il primo mazzo che introdusse i Weirm nel gioco se non sbaglio certo i DGS che aveva introdotto il Psico e i Weirm l'aveva introdotto i Duea quindi teoricamente in Duelist Nexus potrebbero inserire anche una nuova tipologia di carte non sarebbe male è un pezzo che non c'è niente di nuovo e quindi sarebbe anche ora allora detto questo è un'ora e mezzo di podcast pensavo venisse più corto perché ci siamo dilungati un po' nella spiegazione delle carte e nelle cazzate iniziali quindi io morirò nel montare questo questo episodio però sì taglierai tutto ogni singolo punto vuoto sì dobbiamo capire adesso che titolo clickbait dare perché ragazzi in qualche modo ve lo dobbiamo far succare quindi vabbè vedremo stanotte mi metterò a lavoro così lo avrete domani esatto sì e io stasera lavoro fino a mezzanotte voglio morire detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto state me easy e noi ci rivediamo venerdì sempre qua con una decklist e diciamo a sto giro abbiamo qualcosa di carino eh vi dico solo tun cashtira dove dovete cashtira sì siamo quasi sul meta ma con una buona dose di for fun ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.